Buongiorno a tutti, sono Federico della Giovanna, classe 1980. Sono attualmente General Manager di una società leader nel settore della distribuzione di tubi di acciaio. Vivo e risiedo all'estero dal 2009. Passando attraverso l'India, la Cina, il Vietnam e l'Australia, attualmente risiedo a Singapore. Sono chiaramente italiano, dalla provincia di Pavia, dove ho studiato. Ho studiato all'Università di Pavia e nello specifico nella Facoltà di Economia. Ho conseguito una laurea in Economia Aziendale, in Dirizzo Marketing. È stata un'esperienza fantastica. Ho trovato un sacco di amici che tuttora vedo e sento, anche se per ovvi motivi di distanza non così spesso, però siamo rimasti in ottimi rapporti. Ho trovato un ambiente serio, professionale, professori molto preparati. Mi ha aiutato tantissimo la laurea in Economia nel mio percorso lavorativo. Consiglio vivamente a tutti i ragazzi che si stanno mettendo alla ricerca di un futuro di recarsi presso l'Università, prendere informazioni e affidarsi ai professionisti dell'Università, che mi hanno saputo aiutare allora e sono certo che sapranno farlo oggi. Vi faccio un grosso in bocca al lupo e prendetevi una laurea in Economia, vi aprirà un sacco di porte e potrete viaggiare oppure rimanere in Italia. Comunque prendetevi una laurea in Economia, mi raccomando, in bocca al lupo e buona vita a tutti.